Ehi la ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questo nuovo video Sì, se ve lo state chiedendo E' super meat boy E' sempre sì, se ve lo state chiedendo sono masochista Quindi, allora, diciamo che mi dispiaceva, ecco, mi dispiaceva lasciarlo a metà così Senza aver provato almeno il Dark World lì, quella roba del genere Ora, il problema è, mi avete detto che per accederci devo fare qualcosa O posso farlo, solo che non vai in internet, ok? Quindi lo devo trovare per conto mio E non so cosa sto dicendo, iniziamo Già l'idea di rigiocare il gioco non è delle migliori Perfetto, quindi Ah, ok, ho capito Cioè, vedete, tipo, se non ho la più, non posso fare il Dark World Cioè, posso farlo solo nei livelli a più Eh, ok, fin lì c'ero Shift No, aspetta, devo fare A più il primo livello? Oddio, che schifo è Cioè, davvero? Allora, aspetta che non mi ricordo come si gioca E, cioè, vai, il livello più difficile del gioco Allora Eeeh Non so cosa vorrei fare Perché Non so se prima prendere tutte a più E poi fare il Dark World Facciamo una cosa Intanto vediamo sto Dark World com'è Quindi shift Quante è? Uno, nove Ok Qui, ecco, un'altra cosa Ah, ma Oh, figo Cioè, proprio, cambia tutto E' preso pure a più C'è pure, c'è la più da prendere Vai così Che bello Allora, comunque, vedo sti livelli bloccati Ah, uno X Due X Ah, non ero nove, allora Quattro X E non ci sono i boss, vedo Ok Allora, facciamo una cosa Esci dal coso Allora Facciamo che prima prendo tutte le a più Si sblocco tutti i livelli del Dark World Forse me ne pentirò più avanti In questa mia scelta Non ne sono sicuro Ehm, prima prendo tutte a più Poi prendo Ehm Faccio il Dark World Devo tentare di prendere anche tutte le Bandages Cioè, adesso che Adesso che li sto rigiocando Così, dopo aver fatto l'ultimo livello del gioco Ehm Mi sembra tutti Come se fossi un handicappato Non lo so Guarda lì Non ne ha più, però Ah, guardate anche Lì in basso C'è la bandiera Il 9 E il tempo 786 Quindi penso che 786 sia il mio tempo E la bandiera 9 sia per prenderla più Perché qua 21 secondi 21 secondi ce ne servono 9? What the hell? Ok, forse non ne aveva fatto bene Nemmeno così Cioè, raga 21 secondi ci ho messo per fare questo Ok È un po' strano O forse mi ero messo a giocare con il coniglio, vero? Ok Ci sono Vai L'ho finito, no? Mi sa che li ho fatti tutti più Ah, c'è anche il boss che farà più No, eh Spero Che era poi il slugger? Non mi ricordo Forse è meglio Ah, c'è anche quel coso da nero Aspettate, aspettate Il buco nero lì Cos'è? L'ho fatto? Sky poop Non lo so Però è completato al 33% Cosa vuol dire? Vabbè che mi mancano 18 band lì Cerotti Mi faccio capire Quali livelli hanno il cerotto E quali Vabbè no, aspetta Sono 20 livelli 20 band Ok Quindi ogni livello C'è un cerotto Cerchiamoli Sì Che bello Non capisco nemmeno perché ci sono due band su 20 E il primo livello non ce l'ha Perché teoricamente due le ho prese Ma fa lo stesso Io li cerco, li cerco Chi se ne frega Ok Raga Questa warp zone Non so se l'avevo fatta Perché non me la ricordo E forse era meglio che non la facevo No Dai È volato via Praticamente Cos'è? Ah no, è quella Ok E c'erano i cerotti lì però Mi sa che ce n'è uno per ogni livello Se sono tre livelli Teoricamente Uno Olì Ok Livello due E ho preso due cerotti Quindi teoricamente se qui c'è il terzo Avrei tre cerotti in più Cos'è? Ma non l'ho visto nemmeno che finiva Lì nel momento in cui Sì Vai Certo Calmi Calmi per favore No Ti amo Fermati Fermati qua Pac Pac Non me ne frega niente Sei in un'altra zona Non loggio a te Oh Oh Vedete quattro bandage Oh E che cacchio Andiamo avanti Che cos'è? Sì E qui c'è un'altra E andiamo Che cacchio Vai Perché Mo' finisco tutto il gioco 100% Più I grandi successi Faccio avanti Sì Ce ne frego Lì c'è un'altra No problemo Lì c'è un'altra Un altro urso Cioè È sempre lo stesso O ce ne sono Diversi per ogni mollo No ok Di questo è diverso Sta laggando come non so cosa Sì Ci ho guardato il lag ragazzi Non lo so Passato il Nyan Cat Oh mamma Oh È quello È quello di Di Trip Runner Grandissimo Penso Aspetta Si chiama Mi sa che si chiama così Sì Grandissimo Mi sembra il Nyan Cat Uno di quei giochi Che sta facendo Personaggio Commander Video Di Trip Runner Ok Devo Guardalo Cos'è che Stava facendo Non Cioè raga Fluttua What the hell is this Che figata Guardalo Mamma mia Cioè se ti rendi spiegato Fluttua Cioè ovviamente C'è il tempo però Ma voilà Ma sì Vabbè Ma se ci avevo lui Come personaggio Potevo finire tutti i livelli L'ho sbloccato anche Fa chies Ah no Figo Cioè raga Dai Io Davvero posso prenderlo Ma va Mi facevo tutti i livelli Con col lui Vincevo tutto Cioè raga Ma ci sono dei Dei buchi Che non Non sembra che tu Possa passarci Però in realtà Ci passi È impossibile Come faccio a scoprirle tutti Che a chi di livello è Cioè è più la palla per salire Andava là Poi Ah merda Guarda 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 là sotto Schifoso Non ci credo Ho capito È il tipo tempo Opla Ecco adesso non mi rompete le balle Perché se no Vi spalgo Perché mi sono mosso Senza vedere dove ero E olè E questo c'è E felici siamo Ora tre vite Se una non la spreco Per farlo stupido Ok bravo Ora voli di là Dove stai andando Dove stai andando Eccolo L'ho fatta L'ho fatta di nuovo Incredibile Buoni buoni Questo l'ho già fatto Il 20 L'ho già presa La bandage Esci esci Sì Ora Ho preso 10 bandane 10 Perché dico le bandane Mannaggia te 10 cerotti Su 20 Cosa mi sta a significare Che sono nel dark board Cioè ce ne sono 10 10 Allora intanto Aspettate Abbiamo sbloccato Tutti i livelli Facciamo così Allora Ho visto Com'è il dark board È difficile Perché Essendo anche il primo livello Era difficile Quindi Vi saluto qua E la prossima parte Faremo Probabilmente Tutto il dark board Prenderemo Forse tutte le bandages I cianotti E basta Vabbè Niente Per questa parte è tutto Ci vediamo In prossima parte Let's play Super Meat Boy Qui dall'anno Il fetutto Ciao a tutti